Il stanco atto romano sta a passeggiare per Villa Borghese quando a un certo punto gli passa davanti una fregna da paura Ma guarda, la signori, scusi, permette una domanda Dice, ma lei che c'ha? E te le passi in tasca? Dice, perché? Perché come è passata, la signorina è messa alzata la sbara